Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica i miei, tutto si fa bene. A te che mi hai in mano, a te che non mi chiede, con le mie spalle contro il mio, non puoi difendere, con gli occhi bassi sarò un filo. 24 aprile alle 16, facciamo ancora questo applauso. Anche pure a Cinebra, e noi stiamo registrati, con la lettera del tutto, su YouTube e nelle nostre pagine Facebook, e dopo la serata io regalerò ai punti, tutte le foto e tutti i video di spazio sera. Bene, facciamo questo applauso alla piccola Cinebra. A Nello basta, eh? Se qualcuno si vorrebbe fare un bene, non mi fa, non mi fa, non mi fa, non mi fa, ma mi fa, non mi fa, non mi fa, non mi fa. Mi interessa a giocare con gli occhi, se non è iniziato, no? Vabbè, allora facciamo una cosa, a Nello lo facciamo dopo, adesso facciamo con qualche... ...grava quella musica e... ...non ci facciamo, non ci facciamo adesso un po' di ciò.